come è possibile che nessuno abbia neanche il minimo interesse a fare una rand 5dc dai su ma chi è dps luciditi invitalo invitalo in gruppo poi ti passo il capocoda si allora rendi capocoda ok non l'ho ispezionato mi sono andato a fiducia di come l'ho scritto dc dc beh ispezionalo prima di partire armi dello scalatore quali sono le prime quelle sono le prime quelle quando inizi la campagna di sottomonte fino a comunque mi sto bene no no mi sto bene mi sto bene non non ma 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.